Comincia un viaggio diverso. Le regole sul distanziamento riducono la capienza dei mezzi. Pianifica il viaggio considerando tempi maggiori. Evita le ore di punta. Compra il biglietto via SMS e app. O paga contactless. E ricarica l'abbonamento online. Noi di ATM ci mettiamo il massimo impegno. Sanifichiamo tutti i mezzi. Schieriamo l'intera flotta e tutte le nostre persone. Regoliamo gli ingressi in metro. Fai anche tu la tua parte per tutelare la salute di tutti. Viaggiamo tutti responsabilmente. Grazie.